Allora iniziamo subito con le domande visto che ci siamo già presentati. Oggi siamo a qualche giorno dal terzo anniversario dell'assassinio di Marco Biagi, proprio oggi c'è stata già la sentenza di condanna per Cinzia Banelli e già condannata per Dantona. In questi casi si è parlato quindi di nuove Brigate Rosse. Se condivide questa denominazione vorrei chiederle qual è secondo lei l'elemento forte, quello che segna la differenza tra le vecchie e le nuove BR oppure se è cambiato il terreno sociale dentro il quale queste si sono sviluppate. Per certi profili le cosiddette nuove Brigate Rosse sono vecchie. Il fanatismo ideologico, lo sganciamento dalla realtà alla convinzione di essere all'avanguardia di qualcuno, mentre non solo all'avanguardia di nessuno, sono oggi le stesse di ieri. In questo senso le nuove sono vecchie. Per fortuna, per fortuna di oggi, se ieri le Brigate Rosse, le formazioni terroristiche in generale hanno avuto in alcuni momenti, soprattutto nelle primissime fasi della loro esistenza, qualche prospettiva di proselitismo allargato, di avere dei referenti in fasce anche consistenti di mondo giovanile, di mondo operaio, di mondo intellettuale. La stagione dei brigatisti presentati come Zorro, come Robin Hood, come compagni che smagliano. Poi ancora la stagione del né con lo Stato non è con lo BR, uno slogan molto equivoco, che consentiva ai terroristi o agli aspiranti terroristi di illudersi o di pensare che andando avanti, andando avanti significava continuando ad uccidere prima o poi, questa base di disponibilità sarebbe diventata base di appoggio, non soltanto di disponibilità, se non addirittura di reclutamento e quindi di militanza. Oggi tutto questo, per fortuna, mi sembra non esserci più. Può esserci qualcuno nascosto da qualche parte o che ogni tanto viene fuori, per carità, a qualcuno. Mentre per quanto riguarda le vecchie Brigate Rosse, per quanto riguarda il terrorismo degli anni 70-80, purtroppo, obiettivamente, almeno in una prima fase non era qualcuno, erano molti, tanti. Era un problema con una certa diffusività di massa, non soltanto un problema, come dire, circoscritto in un perimetro ben definito, se non catacombale, abbastanza simile al catacombale. Certo. E qualche giorno fa il ministro dell'interno Pisano, riferendo al Senato degli ordini esplosivi di Milano, Genova e Roma, ha parlato di questi gruppi anarco-insurrezionalisti e ha dichiarato che questi stanno prendendo il posto, il vuoto lasciato dall'Ebr. Quindi ci sono due questioni che si snodano da questa dichiarazione. Da una parte si presuppone che l'Ebr avessero questo terreno sociale, dove stavano proliferando, che adesso è stato incanalato in questi nuovi gruppi. Secondo lei si possono assimilare questi nuovi gruppi detti anarco-insurrezionalisti all'Ebr. Guardi, io mi sono occupato di terrorismo per oltre dieci anni a tempo pieno, dal 74 all'83, ma erano le vecchie Brigate Rosse, delle nuove, e sostanzialmente non so nulla, e allora non sono in grado di interloquire per mancanza di elementi di conoscenza specifico concreti con queste affermazioni del Ministro degli Interni. Ma se il Ministro degli Interni ha detto queste cose, siccome parla sulla base delle relazioni che gli fanno fiordi professionisti che questi problemi li studiano, li conoscono, li approfondiscono e poi sottopongono le loro valutazioni al Ministro, io credo che ci sia da prendere in attenta considerazione queste preoccupazioni, queste prospettive. Poi naturalmente possono essere chiavi di lettura, tentativi di lettura, non letture univocamente, irreversibilmente consolidate, ma nei limiti in cui ho detto sicuramente considerazioni da valutare con grande attenzione. Gli obiettivi proprio di questi gruppi non sono più un solo le questure, come potevano essere un po' di anni fa, ma si scagliano anche contro il mondo del lavoro cosiddetto interinale. Per Pisano quindi diciamo l'obiettivo di questi gruppi è intercettare un disagio sociale che esiste. Cioè lei è d'accordo con quest'analisi o siamo di fronte ad un fenomeno diverso che è ancora da analizzare? Sulla base di quell'esperienza che posso aver fatto io, che ripeto è datatissima, bisogna sempre tenere distinti due piani. E gli obiettivi, potremmo addirittura dire i desideri dei terroristi e la concreta, effettiva praticabilità dei percorsi che in base a quei desideri intraprendono. Le Brigate Rosse storiche erano convinte di essere l'avanguardia del proletariato e che a forza di attentati, omicidi, gambizzazioni, sarebbero riusciti a disvelare al popolo, questa è la loro teoria, in soldoni, il volto autenticamente reazionario, repressivo, fascista dello Stato, la finzione della democrazia e quando il popolo avesse capito tutto questo si sarebbe ribellato e ribellandosi si sarebbe automaticamente ritrovato intorno alle avanguardie organizzate già operanti le Brigate Rosse che avrebbero conseguentemente guidato la rivoluzione verso orizzonti di sicuro successo. Erano sogni, erano illusioni, sogni, illusioni tragici perché hanno comportato una serie di attentati che oggi non ci ricordiamo più ma talmente numerosi e tanti che il Ministero degli Interni negli anni 70-80 era arrivato a calcolare la cadenza oraria degli atti di violenza, dagli atti di violenza cosiddetta diffusa fino agli omicidi, come un treno che passava con regolarità tale che consentiva di calcolarne la cadenza oraria. Ecco, però nonostante il volume di fuoco davvero impressionante ripensando anche alle statistiche, le prospettive di coagulare intorno a sé un vero e proprio movimento di massa capace di scatenare le rivoluzioni sono rivelate illusorie. Ecco, se oggi si propongono di intercettare un certo qual malessere, di intercettare un certo qual disagio, di interloquire anche con dei problemi effettivamente esistenti nella nostra società, bisogna vedere se questa è illusione e se voglio raccordarmi a qualcuno e a qualcosa devo raccordarmi a problemi effettivamente esistenti nel momento in cui opero come terrorista, come criminale, altrimenti sono tagliato fuori di per sé stesso. Ma non basta volere raccordarsi con qualcuno, con qualcosa o con qualcuno, non basta volere intercettare determinati fattori effettivamente esistenti nella nostra società, bisogna anche saperlo fare e bisogna anche avere la recettività di coloro che si vorrebbero intercettare. La mia impressione è che un tempo le brigadierose storiche, in una fase iniziale, questa recettività fosse abbastanza diffusa. Oggi per fortuna può anche esserci, ma isolatamente, sporadicamente. Sempre in questi giorni, con cui ci sono stati sicuramente meno di un tempo, però tanti piccoli ordini che sono esplosi, è un fenomeno che si ripete ciclicamente verso ogni scadenza elettorale, sembra essere un fenomeno tipicamente italiano e riesce a darci una radice storica di questo fenomeno. Questo è un problema del quando e delle contingenze particolari che si possono riscontrare nel momento in cui la violenza, la violenza in tutte le sue articolazioni fino all'estremo della violenza terroristica si manifesta. Di nuovo, io parlo di quello che ho un po' vissuto professionalmente parlando, quindi torno sempre indietro nel tempo. Le Brigate Rosse cosiddette storiche. I salti, cosiddetti salti di qualità, ovviamente qualità criminale, le Brigate Rosse li hanno compiuti sempre in momenti molto delicati, molto difficili, molto complessi della nostra vita pubblica. 1974 sequestrano un magistrato di Genova, Mario Sossi, e il primo sequestro che invece di ispirarsi alla tecnica del mordi e fuggi pochi minuti o poche ore si protrae per molti giorni, viene cadenzato da volantini di rivendicazione che contengono messaggi politici progressivamente numerati. Chiedono allo Stato la liberazione di alcuni detenuti politici, quindi si pongono come soggetto politico alternativo allo Stato e tutto questo nel 1974, nel bel mezzo della campagna referendaria sul divorzio, quando il nostro Paese, magari confusamente, magari più o meno consapevolmente, si interroga se cambiare e poi decide, dicendo sì al divorzio, di voler cambiare su un problema molto importante, molto sentito, molto coinvolgente. L'altro salto di qualità criminale si verifica nel 1976, quando le brigate rosse per la prima volta uccidono deliberatamente, programmaticamente, avevano già ucciso prima ma secondo il loro orribile linguaggio era stato un incidente di percorso. Due signori di nome Mazzola e Giralucci che in una sede del movimento sociale di una città del Veneto si erano trovati in questa sede nel momento in cui le brigate rosse facevano un'irruzione per... questi poverini erano morti, ma non erano andati per uccidere questa volta. A Genova invece vanno per uccidere il procuratore generale Cocco e gli uomini della sua scorta, Saponale e Deiana. Siamo nel 1976, decidono di uccidere esattamente quando il nostro Paese sta vivendo un momento di consultazione elettorale importantissimo, sono elezioni amministrative, ma per la prima volta si registrano variazioni percentuali a doppia cifra, quasi mai successo in Italia. E tutte in un senso molto preciso, la sinistra avanza fortemente in quel momento. L'altro salto di qualità criminale più clamoroso, più terribile, più tragico è nel 1978, quando sequestrano dopo aver massacrato la sua scorta Aldo Moro, lo tengono prigioniero per tantissimi giorni e poi lo uccidono. E questo sequestro con massacro della scorta avviene esattamente nel giorno in cui va a formarsi un nuovo governo con l'appoggio esterno per la prima volta, dalla fine della guerra, dopo il primo governo De Gasperi Togliatti delle sinistre. Ecco, sempre le Brigate Rosse compiono questi salti di qualità in momenti particolarmente difficili, nevralgici, delicati della storia del nostro Paese. Di qui molti interrogativi. Con molte risposte. La prima possibile risposta, alcuni hanno dato questa risposta, sono eterodiretti. Si fanno vivere nei momenti più delicati perché c'è qualcuno che li manovra, c'è un burattinaio. Io personalmente non credo a questo tipo di risposta. La mia risposta è più banale ed è questa. E se io voglio fare politica, sia pure in un modo criminale, con l'impiego sistematico della violenza armata, anche terroristica, anche uccidendo, anche gabbizzando, voglio comunque purtroppo fare politica e allora cerco di farla inserendomi nei momenti in cui la tensione politica normale e ordinaria è particolarmente accesa perché inserendomi in questi momenti anche la mia azione criminale può avere più ecchi. Il dibattito politico normale e ordinario può funzionare da cassa di risonanza. E però, ecco, anche ammesso che le cose stiano come a me sembra di poterle vedere in questo senso, la conclusione. Non sono nessuno. Sono subalterni rispetto al dibattito politico, anche acceso, anche aspro, ma democratico del Paese. Per farsi sentire debbano infilarsi negli interstizi, nelle pieghe del dibattito politico normale e corretto. Perché da soli non li ascolterebbe nessuno, neanche quando praticassero, come praticano, questo è il loro metodo, la violenza. Certo. Nella storia d'Italia ci sono tantissimi buchi neri, uno tra tutti è la strage del 2 agosto dell'80. A distanza di 25 anni potrà mai farsi chiarezza su questa ed altre vicende? Avrà senso? Si riuscirà a fare chiarezza o si perderà la memoria? Io sono uno di quelli che sostiene che di chiarezza se ne è fatta abbastanza. I magistrati di Bologna hanno lavorato, a mio avviso, bene. Sono arrivati a conclusioni che hanno avuto conferma anche in Cassazione. Quindi non è che non si sa nulla, si sa una serie di cose importanti e per quanto riguarda gli esecutori materiali e per quanto riguarda le cosiddette deviazioni. E siccome sono deviazioni di un certo tipo, qualche volta con componenti istituzionali, ecco sono deviazioni particolarmente significative. Averle scoperte, averle dimostrate è sapere cose importanti, negative, brutte, ma importanti. Manca risposta a tutta la serie di interrogativi, i mandanti, se ci sono e se ci sono quali nomi hanno. Certo più il tempo passa più è difficile trovare delle risposte a questi problemi. Ed è, purtroppo, il nostro è un paese, secondo me, con dei lati positivi e delle qualità enormi. Lati positivi e qualità che ci hanno aiutato a superare i momenti più difficili. La dittatura fascista, recuperando la libertà e la democrazia, la ricostruzione dopo la guerra, la libertà, la democrazia, i diritti degli operai in fabbrica, fino allo statuto dei lavoratori, il terrorismo, almeno in alcuni momenti con alti e bassi luci ed ombre, la mafia, lo stragismo nei limiti in cui ho detto prima. Abbiamo queste qualità, possiamo, io credo, orgogliosamente rivendicarlo, ma abbiamo anche dei problemi. Uno di questi problemi è che, per alcuni fatti particolarmente gravi, negativi, che hanno segnato, come dire, in maniera pessima la nostra storia, non siamo riusciti a trovare risposte sufficienti. Portella della Ginestra, 1947. Una strage di mafia, bandito Giuliano, mafia, secondo gli storici, anche con, diciamo così, agganci con una certa politica. In realtà ne sappiamo ancora troppo poco. E quella è una strage che ha segnato la storia della nostra Repubblica, in un momento particolarissimo, quando le sinistre hanno vinto le elezioni in Sicilia e in questo modo vengono i risultati di quelle elezioni, anche per effetto della strage, se non cancellati, sicuramente, come dire, molto dimensionati, ecco, usiamo queste espressioni. E poi tanti altri fatti, tante altre stragi che hanno avuto delle risposte, ma nel momento in cui non sono ancora risposte complete, definitive, soltanto parziali, anche se importanti, importantissime, da scrivere a merito di coloro che hanno lavorato alla ricerca della verità, ecco, delle ombre. Si è tornati anche a parlare in questi giorni del ruogo di Prima Valle con tutte le polemiche che ne sono seguite. Ogni anniversario della strage della stazione di Bologna seguono ulteriori polemiche. Volevo chiedere cosa ne pensa dell'uso strumentale di queste vicende, dell'uso politico che se ne fa? Parlando in generale, prescindendo da Prima Valle e dalla strada del 2 agosto, uno dei problemi del terrorismo, della violenza politica, dello stragismo, così come della mafia nel nostro Paese, è anche l'uso politico che molte volte se ne fa, in un senso o nell'altro. Invece di essere preoccupati sempre e soltanto dell'accertamento della verità, quale che sia, si è più tendenti ad utilizzare quel che non è stato accertato o quel che è stato accertato, o a leggere in un senso o nell'altro quel che emerge, in modo da favorire la propria concezione politica. Un giornalista molto attento a questi problemi ha usato un'immagine che mi sembra di poter condividere pienamente. Il terrorismo è un piatto sporco nel quale possono mettere le mani in tanti e possono essere anche le mani più diverse. Il terrorismo è un problema criminale ed è anche un problema politico, non solo per gli obiettivi politici che i terroristi si ripromettono, ma anche per la strumentalizzazione politica, che a volte inconsapevolmente, a volte ben consapevolmente, questo, quello, quell'altro ancora possono fare e obiettivamente hanno fatto. Lei è stato anche direttore dell'amministrazione penitenziaria e volevo spostarmi adesso su questo argomento. Come saprà, tra qualche giorno aprirà proprio in provincia di Modena, a Castelfranco, questo nuovo carcere a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti e entreranno le comunità di recupero all'interno del carcere, probabilmente San Patrignano. Lei cosa pensa di questo tipo di nuovo utilizzo del carcere? Potrà essere un sistema buono perché si arrivi veramente ad un recupero, ad un rinserimento o ci sono altre strade da percorrere? Guardi, io ho diretto l'amministrazione penitenziaria ormai parecchi anni fa, quindi non ho più conoscenze fresche, dirette di questi fenomeni e delle nuove realizzazioni e sperimentazioni che si cerca di fare, questa in modo particolare che lei ha accennato nella sua domanda. ho letto che questa nuova realizzazione potrebbe ispirarsi ad una sorta di avvio lungo la strada che alla fine della strada stessa potrebbe comportare una privatizzazione delle carceri, se così fosse sarei completamente contrario, ma non so se sia effettivamente così. quanto al trattamento differenziato, questo è un caposaldo di un carcere moderno che distingua a seconda dell'età, a seconda del tipo di reato, a seconda delle possibilità concrete di recupero, a seconda della recidiva poca o tanta o nessuna e via seguitando, 30% dei detenuti nelle nostre carceri è costituito da tossicodipendenti, da persone che hanno sbagliato e sicuramente le devono pagare, perché questa è la legge, ma hanno sbagliato soprattutto perché molte volte, non dico costretti ma fortemente indotti dalla dipendenza, dalla droga e allora non sono delinquenti, come dire, intenzionali, come si sarebbe detto nell'ottocento, cattivi per definizione, sono un'altra categoria, alla quale bisogna prestare un altro tipo di attenzione rispetto invece al delinquente che è tale per tornaconto personale, per cattiveria, per per mille altri motivi che non sono quelli della dipendenza, alla quale non si riesce a resistere da una sostanza stupefacente. Certo. E sempre in questo ambito, sia la legge Bossi-Fini sull'immigrazione che la legge Fini sulle droghe tendono comunque a guardare, ad avere come modello sociale quello di trattare magari il disagio come un problema di ordine pubblico. Queste due leggi, queste proposte, secondo lei sono in linea con i tempi, nel senso risolvono i problemi sui quali la politica è chiamata a rispondere o aggravano delle situazioni? Beh, innanzitutto la legge Bossi-Fini è una legge, quella che lei ha chiamato, ma poi ha detto lei stessa proposta, legge Fini è una proposta. Diciamo che un magistrato ha il dovere di applicare lealmente le leggi dello Stato, altrimenti non dovrebbe fare il magistrato. Ma nel momento in cui applica lealmente le leggi dello Stato, magari ricorrendo la Corte Costituzionale quando ritiene che ci siano profili di contrasto della singola legge con la Corte Costituzionale, ma questo fa parte dei doveri del magistrato, nell'applicare lealmente la legge dello Stato, il magistrato ha anche il diritto e dovere di riflettere sulle conseguenze di questa legge. Ora io vorrei riflettere sullo specifico della legge Bossi-Fini o sullo specifico della proposta di intervento assai più restrittivo sul versante delle tossicodipendenze. Vorrei fare delle considerazioni da un punto di vista più generale da Stato, non per sfuggire alla domanda, ma perché mi sembra più corretto e giusto e spero anche più interessante, ma non lo so. Ci sono oggi nel mondo formidabili fattori di esclusione da certe aree che sono la persecuzione raziale, la persecuzione religiosa, le guerre, le carestie, la fame. Formidabili fattori di esclusione da certe aree che si combinano con fattori altrettanto formidabili di attrazione verso aree diverse. Le aree ricche, nell'Occidente, il miraggio del lavoro, molte volte è un miraggio, l'illusione di un arricchimento immediato, molte volte è un'illusione, nella minore delle ipotesi la prospettiva di ricongiungimento di nuclei familiari frazionati e dispersi da diaspore successive. Fattori così imponenti di esclusione, combinati, ripeto, con fattori altrettanto imponenti di attrazione, con la conclusione, davvero secondo me indiscutibile, che questo è un fenomeno non individuale, questo è un fenomeno, l'aggettivo è abusato, ma questo lo è, un fenomeno epocale. In quanto tale, a parte che la migrazione è sempre stata un fattore di sviluppo, lo sappiamo bene noi italiani che siamo stati, fino a poco tempo fa, un popolo di migranti, sia verso l'estero sia all'interno del nostro paese. Mia madre è nata in Argentina, io non sono giovane come lei, ma non sono neanche vecchissimo, ecco, mia madre è nata in Argentina, dove i suoi erano emigrati perché avevano bisogno di emigrare per sopravvivere, letteralmente. Un fenomeno epocale, non un fenomeno individuale, e che allora va regolato, i flussi vanno controllati, eccetera, ma non si può pensare di cancellarlo, impedirlo tirando su dei muri, tirando su delle barriere, respingendo dalle frontiere che alle frontiere stesse si affaccia. Non si può, un fenomeno epocale di queste dimensioni vuole un altro tipo di risposta. E invece, non soltanto in Italia, ma un po' in tutta l'Europa, la risposta tende ad essere proprio nel senso dell'esclusione, non nel senso è più faticoso, è più difficile, si corrono più rischi, più pericoli dell'accoglienza. Certo, tutto è complicato dal fatto che in questo flusso migratorio fatto di persone che vogliono puramente e semplicemente sopravvivere, ci sono anche, ed è una quota consistente, persone che non migrano per sopravvivere, ma migrano per delinquere. Sono le nuove mafie di importazione o persone che... e questo problema c'è, questo problema non va dimenticato, ma le statistiche ci dicano che a parità di sesso e di età il numero di immigrati extracomunitari in particolare che delinque è decisissimamente inferiore al numero di indigeni, di italiani che è nelle stesse condizioni di età e di sesso delinque. Quindi, per semplificare, semmai siamo ancora noi un po' più cattivi, vai a considerare questi problemi con venature appunto di esclusione che può sconfinare facilmente nell'impostazione di tipo razzistico, perché, ripeto, è non considerare considerato un fenomeno epocale, non un fenomeno individuale e non considerare che anche quelle frange che ci sono di delinquenza, di illegalità, sono purtuttavia ridotte rispetto alla dimensione complessiva del fenomeno e percentualmente inferiori rispetto a quello che è il nostro contributo, il nostro di indigeni, virgolette, all'illegalità. Un'altra riforma complessiva proposta appunto dal governo Berlusconi è sicuramente la riforma del sistema giudiziario. Quali sono gli scenari che questa delinea e quali sono i rischi? Ma qui dovremmo parlare molto a lungo. Cercando, sì, magari di cercare su alcuni argomenti. La riforma dell'ordinamento giudiziario, cioè della legge e delle leggi per quanto riguarda il funzionamento della giustizia, è un'occasione importantissima. Che l'ordinamento giudiziario vada cambiato è dire che il sole riscalda e scoprire una banalità, perché addirittura ha scritto una norma transitore della nostra Costituzione che l'ordinamento giudiziario deve essere adeguato alla Costituzione e in 60 anni non l'abbiamo ancora fatto. Quindi che si debba cambiare l'ordinamento giudiziario siamo tutti d'accordo. Bisogna vedere come e soprattutto bisogna vedere se l'occasione importante, preziosissima, questa è la legge delle leggi per quanto riguarda la riforma della giustizia viene o non utilizzata nel senso giusto. Ora qual è il problema dei problemi per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia? Che la giustizia non funziona. Che i tempi dei processi nel nostro Paese sono una vergogna. Perché? Perché si spende poco, perché i magistrati sono mal distribuiti sul territorio, perché i magistrati qualche volta dovrebbero organizzarsi meglio? Parentesi su questo punto. I magistrati hanno proposto al Ministro controlli periodici quadriennali sulla produttività dei singoli uffici con riduzione di stipendio per chi non lavora abbastanza. I magistrati sanno che le cose non vanno, vogliono farle funzionare, hanno lanciato essi stessi la sfida della professionalità. Non conosco categoria sindacale al mondo che per i suoi associati abbia proposto, proponga riduzione di stipendio all'esito negativo di controlli quadriornali di produttività. Si spende poco, i magistrati sono mal distribuiti sul territorio. In forza di una legge che vecchia di cento anni è anche questa. I magistrati dovrebbero qualche volta organizzarsi meglio e chiedono di poterlo fare, di essere controllati e le leggi che disciplinano il processo sono, parola dell'eccellenza Favara, il più alto magistrato italiano, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, un percorso ad ostacoli invece di essere un cammino diretto verso l'accertamento della verità, sono una serie di ostacoli, di trabocchetti che allungano il percorso e quindi i tempi si fanno ancora più lunghi, infinitamente più lunghi e bisognerebbe fare qualcosa perché cambino questi fattori di disfunzione del sistema giustizia. Invece non si fa niente di niente in questa direzione. La riforma dell'ordinamento giudiziario è un concorsificio. I magistrati per progredire in carriera dovranno dare un concorso dopo l'altro, superare un esame dopo l'altro. Per superare questi concorsi, per superare questi esami, che attenzione non misurano la capacità di fare il giudice, misurano l'omogeneità dell'esaminato rispetto all'esaminatore, quindi favorito chi dimostra di essere in sintonia con il potere politico contingente del momento, che può essere di destra o di sinistra, non cambia niente. Uno governa oggi e l'altro governerà magari domani. Questa è l'alternanza, il problema di architettura costituzionale, di indipendenza della magistratura, non di chi governa in questo momento o governerà eventualmente domani. Un concorsificio e i magistrati per dare un concorso dopo l'altro, dovranno sottrarre tempo al lavoro, all'operatività quotidiana. Quindi i tempi dei processi già lunghissimi ci allungheranno ancora di più. Un'occasione perduta, sprecata, per fare qualcosa nell'interesse dei cittadini, dei cittadini tutti. Questa è una delle obiezioni, forse la principale obiezione che i magistrati e hanno scioperato per questo muovono l'ordinamento giudiziario. Nell'interesse dei cittadini, perché la giustizia finalmente funziona. Si parla anche spesso di modifica della Costituzione. Questa cosa ha sollevato un'opposizione sociale quantomeno visibile. Lei crede che esista in Italia veramente un sentimento contro quelli che cercano di cambiare la Costituzione? Esiste, radicata? Oppure si finirà per cambiare la Costituzione in maniera quasi in silenzio? Io non so se esiste un sentimento radicato in un senso o nell'altro, se si riuscirà a cambiare, se si cambierà in silenzio oppure andando a una consultazione referendaria come è scritto nel nostro ordinamento. Vorrei fare ancora una volta delle considerazioni così di carattere generale d'astratto, mi spiace ripetemi. Oggi noi abbiamo una Costituzione che non dimentichiamolo mai è stata scritta da un'assemblea costituente che nasce dalla guerra di liberazione e quindi dal ricupero della libertà e dell'onore del nostro Paese dopo la dittatura fascista. Questa Costituzione costruisce una democrazia pluralista, separazione dei poteri, nessun potere con una primazia, supremazia sugli altri, poteri uguali fra loro, con controlli reciproci, garanzie gli uni rispetto e gli altri dicono i costituzionalisti pesi e contrappesi. Oggi c'è una corrente di pensiero legittima. In democrazia si discute e poi chi è la maggioranza fa la sua politica. Il problema è chiedersi se ciò che legittimamente viene realizzato a livello di riforme rappresenti per il Paese un avanzamento o un arretramento. Oggi c'è una corrente di pensiero che ha questa concezione pluralista scritta nella Costituzione ancora oggi vigente e vuol sostituire di fatto un'altra concezione basata esclusivamente, attenzione, sottolineo l'avverbio, esclusivamente sul primato della politica, sul consenso ricevuto. Attenzione, il consenso in democrazia è fondamentale, se non c'è consenso non si ha la maggioranza e senza maggioranza non si governa, ma il consenso della democrazia pluralista disegnata dalla nostra Costituzione non è tutto. Oltre al consenso ci sono le garanzie, ci sono i controlli, la libera informazione, la magistratura in tutte le sue articolazioni. Se io costruisco un sistema insofferente verso questi controlli, e oggi l'insofferenza non riguarda soltanto più la magistratura ordinaria, le toghe rosse, ma per favore, quando qualunque magistrato, in qualunque ufficio, in qualunque città ha la sfortuna, perché oramai si deve parlare di sfortuna, di doverci occupare adempiendo i suoi doveri di certi interessi che non ci stanno ad essere uguali agli altri di fronte alla legge, quel magistrato o quell'ufficio può essere sicuro che è attaccato. È successo addirittura alla Corte di Cassazione e Sezioni Unite, il massimo dei massimi per quanto riguarda l'ordinamento giuriziario del nostro Paese, che il Presidente del Consiglio, a reti unificate, con cassetta pre-registrata, ha attaccato quando la Corte di Cassazione e Sezioni Unite ha preso una certa decisione in materia di legge Cirami, che non era quella che ci si aspettava. Oggi questa insofferenza riguarda anche la Corte Costituzionale, perché quando la Corte Costituzionale ha detto che una parte del cosiddetto lodo maccanico o schifani, dipende, cioè quella parte che riconosceva una sostanziale impunità alle più alte cariche dello Stato è incostituzionale, cioè non è corrispondente al principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, quindi la Corte Costituzionale facendo il suo mestiere ha cassato, cancellato questa parte del lodo maccanico schifani. Un'altissima autorità dello Stato ha detto testualmente, come osano questi 15 giudici della consulta sovvertire la volontà di 450 rappresentanti del popolo, che è come chiedersi come osa un calzolaio fare le scarpe, come osa Schumacher guidare una Formula 1, questo è il loro mestiere, come osano i giudici della Corte Costituzionale cancellare perché incostituzionale è una legge ordinaria, questo è il loro mestiere, come il calzolaio, come Schumacher. Un'insofferenza verso le funzioni di garanzia, verso le funzioni di controllo, che può modificare il costituzionalismo moderno, quello che tutti i paesi europei ci sono dati in un modo o nell'altro, secondo le esperienze di ciascuno, dopo la tragedia della seconda guerra mondiale. Un costituzionalismo che può portare, io l'ho detto e scritto mille volte, adesso qualcuno dirà che copio Prodi, ma questa frase molto semplificante, molto molto... è la frase che i costituzionalisti usano da sempre, il rischio di una tirannide della maggioranza, la frase esatta che usano è questa. Nel senso che se tutto è basato sul consenso, se il primato della politica significa accantonamento e marginazione delle funzioni di garanzia e di controllo, a parte che la politica significa la maggioranza politica contingente, ecco un problema, che non ci sia più sufficiente tutela delle minoranze e di nuovo non è un problema di destra o di sinistra, le minoranze di oggi possono essere le maggioranze di domani, le maggioranze di domani possono essere le minoranze di oggi e viceversa, è che se in democrazia non c'è anche tutela delle minoranze e c'è un prevalere quasi assoluto delle maggioranze, ancorché basato sul consenso, ecco un problema che i costituzionalisti hanno segnalato anche con questa forma. Il suo impegno contro la mafia è indiscutibile e purtroppo però si parla di mafia solo quando ci sono dei gravi atti di sangue, però anche negli ultimi tempi abbiamo visto come sia sempre più radicato, le organizzazioni criminali siano sempre più radicate dove è alto il disagio sociale, lei crede che si stia lavorando per uscire fuori da questa spirale, bastano le indagini della magistratura? Quando si tratta di crimine organizzato si tratti di terrorismo o di mafia, sono due cose completamente diverse ma per rispondere alla sua domanda più o meno i problemi sono gli stessi, quindi quando si tratta di crimine organizzato intanto si può avere una prospettiva di farcela in quanto si percorrano contestualmente tre strade, la prima è il potenziamento e l'affinamento degli strumenti tecnici, degli apparati tecnici di contrasto, polizia, magistratura, leggi e le vie seguità. La seconda è la strada che porta ad aggredire non soltanto le manifestazioni di questi fenomeni ma anche le loro radici, prendiamo il terrorismo internazionale, se le risposte vengono tutte concepite in termini di ordine pubblico, in termini di sicurezza, l'ordine pubblico e la sicurezza sono fondamentali, importanti, vanno perseguiti in tutti i modi, con determinazione, se necessario anche nei limiti delle regole, con durezza. Ma se tutto viene concepito esclusivamente in termini di sicurezza o di ordine pubblico, dimenticando o accantonando in vista di tempi migliori le garanzie, i diritti, ecco che rischiamo di diventare prigionieri di una logica della sicurezza che assorbe tutto, col pericolo addirittura di mettere in campo mezzi di tutela della sicurezza che rischiano di essere pericolosi per la libertà che vorremmo difendere. Perché secondo denunze autorevoli è successo o magari succede a Guantanamo, è successo e magari succede in qualche carcere iracheno, la incredibile discussione su una tortura buona. Tortura è tortura, non c'è tortura buona, tortura cattiva. Eppure sono persone rispettabilissime che stanno discutendo se sia ammissibile per fronteggiare adeguatamente il terrorismo una tortura buona, magari con un mandato a torturare del giudice, sono cose che non stanno in cielo o in terra, vengono discusse in ambiti autorevoli, prestigiosi. Ecco, non attaccare soltanto le manifestazioni ma anche le radici, garanzie, diritti sono essenziali. C'è un dato ufficiale della FAO, il 66% della produzione di cereali al mondo finisce nell'alimentazione degli animali dei paesi ricchi. Il 66% dei cereali finisce per ingrassare gli animali dei paesi ricchi quando ci sono milioni di persone che soffrono la fame e migliaia di persone che muoiono quotidianamente di fame. Ecco, se non si attaccano anche le radici dell'ingiustizia, l'ingiustizia praticata a lungo non può che generare sofferenza e dalla sofferenza può anche nascere la ribellione. Quindi manifestazioni sì, ma insieme anche le radici. Terza cosa, coinvolgere l'opinione pubblica, non basta l'azione dei magistrati, questa è la maniera più diretta per rispondere alla sua domanda, bisogna anche discutere con la gente di questi problemi, rendere la gente consapevole che questi problemi non sono problemi di guardie ladri, da una parte terroristi o mafiosi, dall'altra magistrati e poliziotti, sono problemi che riguardano la qualità della vita della gente, mafiosi, non sono uomini d'onore, uomini del disonore, non sono uomini di pace, uomini di violenza, la mafia non è vero che dà lavoro, dove c'è la mafia, questo lo ha calcolato il Censis, c'è uno zavorramento dell'economia, nel mezzogiorno a causa della presenza mafiosa secondo il Censis, scienziati, affidabilissimi perché scienziati, si perdono ogni anno 180.000 posti di lavoro e ogni anno si produce ricchezza in meno per un ammontare di 7.5 miliardi di euro, è un impoverimento della società, di questo bisogna discutere con la gente e non soltanto quando la mafia uccide, lei ha perfettamente ragione, della mafia c'è la tendenza a parlare soltanto quando uccidono, soltanto quando fanno delle stragi e poi a dimenticarcela, invece discuterne se possibile molto più frequentemente e non soltanto come questione criminale, anche come questione politica, economico e sociale che incide direttamente sulla qualità della vita, 180.000 posti di lavoro in meno all'anno vuol dire rapina di futuro per i giovani, vuol dire impoverimento del tessuto sociale, economico, collettivo. Negli anni 90 dopo gli omicidi di Falcone e Borsellino la lotta alla mafia sembrava aver preso una direzione precisa e anche vincente. Ora le cose sono cambiate, qual è la strategia che si può adottare oggi? Ma subito dopo le stragi sembrava tutto perduto, poi invece col concorso di tutti, istituzioni, società civile, forze dell'ordine, magistratura, la politica magicamente unita, destra, centro-sinistra, tutti insieme, la legge sui pentiti cosiddetta, per esempio, è stata votata all'unanimità. All'unanimità, da tutti. Sembrava tutto perduto e invece si è riusciti a non precipitare laddove la violenza mafiosa, la violenza stragista dei mafiosi ci voleva spingere. E abbiamo ottenuto alcuni risultati importanti. Parlo dei risultati di Palermo perché ho lavorato quasi sette anni a Palermo chiedendo di andarci subito dopo le stragi. a Palermo la procura dal 93 al 99 ha sequestrato beni mafiosi per una montata complessiva di 10.000 miliardi di vecchie lire, una piccola finanziaria. Sono stati catturati latitanti come mai in precedenza, si sono fatti processi altrettanto importanti, centinaia e centinaia le condanne ad anni di reclusione, quasi 650 gli ergastoli inflitti nel distretto della Corte di Palermo dal 2000 al 2004. È anche antipatico fare il contabile degli ergastoli e degli anni di reclusione, ma questi sono i dati. Ci sono fatti processi alle cosiddette relazioni esterne, cioè a soggetti accusati di collusioni, di complicità con la mafia e questi processi non è vero che sono falliti come comunemente si dice, ci sono state condanne importanti quando si è trattato di assoluzioni, sempre assoluzioni secondo lo schema tipico dell'insufficienza di prove, quindi con il riconoscimento della sussistenza di fatti gravi a carico degli imputati. E poi in alcuni casi, nel più celebre di questi casi, il processo senatore Andreotti, la Cassazione con sentenza definitiva ha confermato quello che era scritto nella sentenza della Corte d'Appello e cioè che fino al 1980 era stato commesso il reato di associazione a delinquere con Cosa Nostra, reato concretamente configurabile a carico dell'imputato che non viene condannato perché il reato è prescritto a causa del decorso del tempo. Quindi anche su questo versante che è nevralgico, perché altrimenti non saremmo qui a parlare di mafia, che esisterà qualcosa come 150 anni se non ci fossero state in tutti questi 150 anni coperture, complicità e via seguitando, anche sul versante delle indagini per quanto riguarda le relazioni esterne, stando alle sentenze, a quello che è scritto nelle sentenze, risultati importanti se ne sono ottenuti. Solo che a un certo punto, forse perché invece che di Rina e Soci ci si è cominciati ad occupare anche di questi livelli più alti, il problema non sono più diventati i mafiosi o coloro che in ipotesi d'accusa erano complici, collusi con i mafiosi, però noi sono diventati i magistrati, oggetto di attacchi, come era già successo ai tempi di Falcone e Borsellino, cinque anni prima di essere uccisi a Capace e via da meglio, Falcone e Borsellino sono stati cancellati, professionalmente parlando, una polemica dopo l'altra, professionisti dell'antimafia, uso spregiudicato dei pentiti, uso distorto della funzione giudiziaria a fini politici, a Falcone gli davano del comunista, un giorno sì e l'altro anche, cinque anni prima delle stragi, è questo? Pool dei giudici istruttori di Palermo, diretto da Nino Caponnetto, trasformato in centro di potere, il metodo di lavoro di Falcone e Borsellino, rivelato se vincente, è stato cancellato, Falcone è stato costretto a emigrare a Roma, se voleva continuare l'impegno antimafia, le stesse polemiche si sono scaterate contro di noi, il problema non è più la mafia, il problema non è più l'ipotesi di collusioni con la mafia, il problema sono i magistrati antimafia, e in questo modo, al di là delle intenzioni, obiettivamente, più tempo, più spazio per le organizzazioni per riorganizzarsi, cicatrizzare le ferite che i durissimi colpi, 560 ergastoli avevano inflitto, e oggi si continua a lavorare, certo la strada si è fatta più in salita, sembrava che il discorso stesse per concludersi, che la mafia fosse per usare un linguaggio sportivo in un angolo, invece no, a un certo punto hanno ripreso fiato, io sono convinto, anche per effetto, indiretto, magari non voluto per carità, ma sicuramente anche per effetto di queste campagne di denigrazione, di legittimazione dell'antimafia, colpevole di occuparsi anche di relazioni esterne, di imputati cosiddetti eccellenti. Io per concludere vorrei farle proprio un'ultima domanda più personale, lei vive da anni sotto scorta, come si può vivere così? Com'è vivere così? Io vivo così ormai da anni, se vogliamo fare i conti, credo dal 1974, dal sequestro Sossi, quindi ho fatto 30 anni l'anno scorso, e non ci si abitua, soprattutto durante il periodo palermitano, lì più che scorta era, virgolette, prigionia, ma proprio prigionia nel senso letterale del termine, non ci si abitua, gli effetti indotti sulla propria famiglia, sulla vita di relazione, sono di tutta evidenza. E però, io ho chiesto di andare a Palermo, sapendo benissimo che cosa mi aspettava, perché ritenevo che in quel momento fosse la cosa da farsi, e quindi non posso lamentarmi. E soprattutto non posso lamentarmi perché, lo dico sempre, l'occasione è preziosa per ripeterlo, ho avuto modo in questi 30 anni di conoscere sempre ragazzi, quelli che mi hanno fatto la scorta in tutti questi 30 anni, sono della Polizia di Stato, che hanno saputo combinare una straordinaria efficienza con un'altrettanto straordinaria cordialità nei confronti miei, nei confronti di tutti i componenti della mia famiglia. E così non dico che siano riusciti ad alleviare, ma quantomeno hanno dimensionato, quanto più possibile, in modo da renderlo, se non sopportabile, meno pesante, questo loro meritorio, non sarò mai abbastanza grato, so, lo so, come diciamo noi, per facta concludenzia, e documentalmente provato, che mi hanno salvato la pelle, almeno un paio di volte, per come sanno fare, per come facevano il loro lavoro, pur facendolo in modo da salvarmi la pelle, hanno sempre saputo dimensionarlo, in modo da renderlo, come dire, meno pesante, e di questo, anche di questo, io sono gratissimo a questi servitori dello Stato. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.